Le esplosioni nucleari hanno sepolto le civiltà, consegnando il mondo alla dominazione di caos e violenza. Il giovane che un giorno diverrà il salvatore, vaga per la landa desolata, tanagliato dalla stessa disperazione nella quale è sprofondato il mondo. E il legittimo successore della divina scuola di Okuto, il suo nome è Kenshiro. Almeno sai per cosa sta pregando? Perché finalmente giunga un salvatore. Un salvatore. Le persone indifese l'hanno sempre fatto in tutte le epoche della storia. Un salvatore è colui che, facendosi carico della tristezza del mondo, e sopportando il proprio dolore, quello degli altri, non fugge davanti al destino. Io vi chiedo, sacre stelle di Okuto, vi chiedo perdono. Soltanto adesso ho compreso quale sia il destino di Okuto e dunque quale sia il mio destino di successore. No! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. E' il suo nome. Grazie a tutti. Grazie a tutti.